Jessica Notaro ha parlato del suo dramma, suo fratello si è ucciso a vent'anni Ecco le sue parole commoventi a Vieni da me. Jessica Notaro, ospite nella puntata di Vieni da me condotto da Caterina Balivo su Raiuno, ha parlato dei trascorsi familiari difficili del suo rapporto con l'amore La modella ha parlato del dramma familiare riguardante il fratello che, quando lei era giovanissima, si è tolto la vita, il dramma dell'aggressione con l'acido purtroppo, Jessica è anche nota alle cronache per un bile e gravissimo atto di aggressione subito dal suo ex, che l'ha sfigurata con l'acido L'ex fidanzato, infatti, nel gennaio 2017, le ha gettato l'acido ustionante ed ora è stato condannato in secondo grado a 15 anni di carcere A tale riguardo, l'ex miss ha parlato del rapporto l'uomo, infine ha voluto lanciare un appello alle donne che subiscono violenza psicologica e fisica Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video, ciao